buongiorno dottore ho una crosticina sul naso che viene via non guarisce e questa è una richiesta che mi viene fatta molto spesso dai pazienti e allora quando devo dirgli che in realtà questo è un piccolo tubo della pelle e che il problema è principalmente ricostruttivo vediamo sempre un po la sorpresa nei loro occhi quindi un paziente come questo che noi abbiamo visto nel 2014 io praticamente ho dovuto eseguire un piccolo lembo locale vedete nel blu quello lì coi trattini e quello che abbiamo tolto quindi tutta questa parte qui è stata tolta rombo e questo pezzo di pelle viene trasporto all'interno si chiama lembo di linberg quello che succede è che anche qua abbiamo la fortuna di rivedere il paziente 2019 quindi dopo cinque anni ecco qua il risultato del nostro intervento chirurgico perché un'altra delle paure dei pazienti è quello di rimanere deturpati ma come vedete non si vede neanche la crosticina la cicatrice del nostro intervento chirurgico quindi un ottimo risultato anche nella ricostruzione ovvio è che questi pazienti dovranno fare continuare una fotoprotezione importante perché questi tumoretti della pelle possono dare recidiva quindi occhio se avete queste piccole lesioni che hanno che stentano a guarire si ripresentano spontaneamente bisogna pensare a un'eventuale scissione